Siamo contro Jax Che cazzo di bossi veramente, guarda Questo è cresciuto la figa Ok Via L'hyp train ovviamente in questo canale non viene completato Dall'incirca Cinque anni Cos'è l'hyp train? Se non ho sbaglio ho fatto Il comando, esatto Edz Se vinci faccio il sub La lane non credo di poterla vincere, è troppo forte come matchup per lui Infatti tenderò magari a romare molto A dare vantaggio ad ecco Vediamo Vediamo, vediamo L'omino dei sofficini, hype frog Manca il tier tra le mappe rimosse Uh, vero Mi manca pure un lose Adesso abbiamo tutto Adesso abbiamo tutto Perfetto, grazie Nico Quanto sei alto? 1,85 No, mi sto con grazie a un casino per proprio la panza Poi sono gonfio, sono gonfio, non mangio bene Non ci devo mettere la testa E farlo e basta Proprio è che quando sei un po' tempo a casa La smagna le maniacce sta sempre Però Mo' di canne, ieri è successo una cosa Perfetto, il game era l'unico online Con lol l'ho avuto scelta Tu mi fai schifo, hyper Non ti voglio più vedere in questa chat Il game, ok, il podcast C'è che non vincerò Left travel con 4 mesi di twitch Prime Ma tranquillo, bro, ma scherzi Tranquillo, mate Grazie nel supporto, lefter Eh, hai pellato, eh, ti ho visto Grazie, mate Quarto mesi è ribenvenuto alle cani-cane, bro Grazie nel supporto Avete fregato un po' di pancetta? No, mi dà fastidio a me Perché comunque mi l'ho messo in forma bene L'altro anno, ero contento Adesso so, mi è venuto un po' al culo Avete preso tutto, tutto qua Quindi voglio rimettere in forma un'altra volta Ieri click ha detto che sei da grandmaster Vando a challenge per come giochi Grandmaster? Vabbè, sì Si può sempre tentare di più, mate Si può sempre imparare di più Sono conscio di non essere da challenge Ce l'ho reattata meno una volta Tutta la mia carriera L'importante è imparare Credere in se stessi E imparare Questo è un errore grave Quello che ho fatto qua In realtà neanche troppo grave Perché Eh, questo è un errore grave Qui abbiamo fatto un altro modo di attacco Però in mezzo Ok Non siamo messi male Se avessi hitato La WP sarebbe stata meglio però Ecco, ecco, ecco qua Quello lo filo per forza Più tempo attaccare la torre Quando dai buio Ci metto in due secondi Arrivare gli attacchi di torre Ah, che ghiè L'attaccano male i CS Non so se ti pare qua Sinceramente WORD Qualcosa WORD No WARS Non posso di pare WARS Tipo Usuratore Tipo Non muovi per forza Dimmi che non devo Usuratore Perché ti arriva Un ceffone In faccia Sì, perché non finisce più Double kill jacks E GLM C'ha Se avessi messo una WORD Avrei diffato molto volentieri Però se non li mettono Non posso ripare Vado a guardare Perché potrebbero venire I miei jacks da dietro No, ero dietro di CS Holy shit L'ho trollata Ai 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 Pensavo di essere dietro di CS Invece mi ha aiutato comunque DQ BG Non tipperò Perché c'è qui Per fare un'azione A both sides Ah Merda Ho pure felato la W In realtà Non l'ho aiutata Con l'heel Questo è brutto Perché jacks Ha preso double Che gli ho smotto Dopo da Resin Molto brutto Ok, è fine però Ok Cercherò di Dobusciare sta Wave E cercherò Successivamente di Ok Perché attacchi Wall-O-Dra-Tutti Perché Che fastidio Cercherò di Usare TP Per Aiutare i miei teammates Magari con il 6 Sarebbe meglio Prendendo il livello 6 Vabbè porco Non pensavo Avesse flash up Figa Almeno posso Tipare top Adesso E perdere nulla Però Non è troppo buona Come cosa Decisamente no Tipo Rò top Però Se no Perdo troppo E scioccherò pure Di frizzare la Wave Non dovrebbe essere troppo male Ok Nice Lui a livello 5 La Wave Non è Allora È frizzata Che finirà A breve il frizz Però perderà un bel po' Di CS Lui Ok good Ciao sbazzi È domenica di tutti i cani Dai che ora ti ti prendi Sì sì È fine A quella cosa sì Perché avevo calcolato Che stessi già dietro i CS Però È ok dai Non è Niente di grave Una miscalcolation Pai che ancora mid Stiamo cercando di buttarci giù L'OTP Ecco Azir non ha il flash Ed ha il TP Quindi in realtà è facilmente punibile Il che è stra good Come cosa Potrei gancarlo anche io Un'altra volta Solo che ha la E Ed ha la ulti Quindi è abbastanza pericoloso Soprattutto quando non la scino O cose del genere Qua abbiamo un'ottima move Che è predisposta A pushare fast La prossima Il che è buono Perché è quello che voglio fare Pushare fast Eh Pushare fast Però La settimana di CS Sarebbe meglio Eh Beh dannetti Ah non ha il flash Holy shit Che danni Purtroppo non c'è vuole Holy shit Android Dreyfoss L'isina è bello fiddato Tipo l'isina Quando è così fiddato Con quello Rasmite Red Non lo chiederemo Per un bel po' Ah Il che ok Tanto la wave Mi ripusherà in Non perderò quasi nulla Ah Per una pink Fuck C'è per il nick Ma ha flashato l'isina No non ha flashato Ha già preso l'era Dovandone non ha shottato Mi possono levare? L'isina non ha il kick Quindi non credo Mi possono levare in realtà Quindi rimarrò top side Senza il kick Non credo mi posso levare Però ci vogliono provare Boh Mmm Poteva andare peggio Fratellino Ho perso un casino Però poteva andare peggio Non perdo neanche troppo Isi essa Mi ha detto bene L'isina qua ha flashato L'abbiamo gestita bene L'abbiamo gestita molto bene Ok Eh ok ok L'isina ha fatto molta pressione Top side Ci sta in realtà E gli agri Però bene Non ci siamo comportati male Il problema è che Jax adesso romerà Insieme alle Sine Sarà quello il problema Che adesso pure Jax romerà I'm Savings Con Twitch Frank Terzo mese Grazie mille Savings E benvenuto alle canne di cane Grazie al fine del supporto Jax bot infatti Cerco di pushare quello che posso Grazie nel tre mesi mate Buona domenica anche a te E ribanvenuto alle canne di cane Nuovo page sul canne tra l'altro E si vola Small gap capito Manosittato Small gap Il tipico affatto Non lo potrò Tipare quanto a tipare Perché non ci avete messo una ward È colpa mia Non posso scendere qua Perché i miei sgamano Non mi vedono subito La Resina è ancora Top stati C'è ancora la Resina anche Via 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 Abbiamo quasi la triples In top gap I guess 20 CS head And one level ahead In top gap So bad NB Slayers XD Ok è solo un piccolo flame Non l'ho Non so neanche come si chiama il team Oddio ho trollato Se si tolso il pub Non so neanche come si chiama il team E si vola Via Shutdown E si vola Ho anche tipi per tipare Ma adesso non ho intenzione di tipare Oppure la drift Lo stesso regalo Builder Sicuramente Ninja Tubby So fulla di loro Ok Ciao guttix Recallo La wave Ok Jax è morta Non è mai Continuiamo a pushare Dobbiamo giocare per il drago Io voglio il tp up per il drago E sarà molto buona come cosa 30 secondi Allora quello che farò È fare Prendere due plate top Se riesco Devo regallare Le due plette non ci riesco Cioè finisce la cosa prima Forse una riesco a prendere Seconda la prendo sicuro due No Per i secondi che finiscono Ma vediamo No Allora prendo la torre Regallo Faccio triple Se tipo il drago Ma sono un po' fuori tempo In realtà così però Ok niente di pp I guess brother Vediamo un po' che succede Arrivo 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 Fattore è scampia Vado top Questa sta pusha Cristo E Dio Ho parlato tutto Ma lascia fare Ma vedi che c'ho pochi hp Pusha sta wave Regallo Un'altra volta No È bad Perché ci potrebbe essere Jax qua Regallo Faccio Vado a rinostrare Sicuramente La risina è grosso Comunque faccio Sì faccio Rinostrare La ridenza Questa partita Che mi dà sia MR Che armor Non vi dà tutti i dubbi Ok Fine Potevo prendere una pink qua Avrei potuto No Resinio all'herald Eh Zira è un po' fuori Tain Sì Bello bro E si vuola Bella lì Really good Rega liamo Oh grazie ecco Grazie Thank you Ai ask Bard Oh ok Ok Ah va ask 30 secondi Lol Buongiorno Amon Ciao Buongiorno Yeah Look Look This Camille Oddio Ma Sto Lo Più Sbaglio Vabbè Look This Camille Fucking Bad Lo kill A Jackson Buono Sì Actually Sì Non c'è neanche la Rewards Ok Ok C'è pure il drago Tra poco Volendo Ma Bard Che fa Io prendo Questa Jack Stop Buono Brandi Brandi Verais Ma lì metto il TP ma stanno qua Stanno qua Cioè l'unice lo sono lasciato O Jax Hazard stanno lì O Magno Caferos non voglia Fa qualcosa ma La vedo dura io no Mi sa che adesso Mi metto solo vicino ai miei di messio Ma di ce lo stanno facendo veramente? Non scappi Primo mese da Stavano Grazie mille il primo mese Benvenuto nelle gagne di cane bro Spero tu ti possa tornare bene E attuaggio in questa streaming Riavvia la live Così non vedrai più pubblicità sul canale E welcome back Grazie mille il primo mese GG Holy shit Non è si stop bro E WPF tier 1 Abbiamo giocato veramente bene questo game Holy shit veramente bene E pensare che oggi non mi sarei dato una lira Abbiamo giocato veramente Ho sputato sullo schermo A parte questo Holy shit Oh no Donico Più 18 We take it We take it Vediamo i danni Boh non male ragazzi GWP bel game cazzo bel game GG 32 e 41 Questo va su youtube assolutamente Fine game camille Assolutamente No